Era già nell'area da tempo, ma adesso lo strappo è definitivo. Il vice sindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, ha infatti deciso di lasciare la lista Oraghinelli, una rottura che arriva proprio alla vigilia della prima riunione del gruppo che si dovrà organizzare in vista dell'avvio ufficiale della campagna elettorale. Al momento non sono state rese pubbliche le cause che hanno portato il vice sindaco a prendere questa decisione, ma già nei mesi passati alcuni malumori all'interno della coalizione si erano fatti sentire. Era infatti lo scorso 26 gennaio quando Gianfrancesco Gamurrini aveva annunciato l'intenzione di costituire una lista civica in appoggio della candidatura abissa del primo cittadino. Ghinelli da parte sua però aveva dichiarato che in quella lista non si sarebbe trovato anche il candidato sindaco. Adesso lo strappo è definitivo e si sarebbe consumato proprio in questi giorni. Ancora tutto da scrivere, almeno per il momento, resta così il futuro politico di Gianfrancesco Gamurrini. Innanzitutto infatti dovrà essere chiarito se il vice sindaco si ripresenterà con una lista civica personale dando seguito a quanto annunciato a gennaio oppure se prenderà le distanze dal centro-destra. Voci sempre più insistenti che al momento non trovano però conferme vorrebbero Gianfrancesco Gamurrini vicino all'ex parlamentare del Partito Democratico Marco Donati che ha già annunciato l'intenzione di concorrere alla carica di sindaco con una lista del tutto civica scevra dunque da ogni schieramento politico.